Onorevole, grazie al PD, da oggi l'Italia è più rosa. Sì, è un primo passo, è un grande traguardo, però è solo l'inizio di un grande percorso che il Partito Democratico potrà continuare a fare. È più rosa nei consigli di amministrazione e dovrà essere più rosa tutta l'Italia. I consigli di amministrazione dovranno essere capaci di contaminarsi alle novità e le donne nei consigli di amministrazione dovranno essere capaci di fare in modo che il cambiamento avvenga in tutti i luoghi. Il PD in questo farà la battaglia e continuerà su questa strada.